giusto vediamo quello che serve l'assessora ah giusto benissimo eh buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio a tutte eh siamo qua per questa sessione di About City eh che Fondazione Feltrinelli organizza anche eh diciamo nel contesto nell'ambito delle giornate di MIARC come sapete io sono Gabriele Pasqui e eh sono insegno al Politecnico di Milano politiche urbane e in questo momento sono coordinatore scientifico di un progetto eh che si chiama Dipartimento d'Eccellenza Fragilità Territoriali oggi ci occupiamo di una esperienza che è sia di ricerca sia di tentativo di attivare eh proposte e ipotesi sulle politiche pubbliche territoriali nel nostro paese e anche con attenzione alla dimensione della regione regionale ehm che è l'esito di un lavoro di cui vi dirò fra un attimo il titolo ricomporre i divari politiche territoriali contro le disuguaglianze appunto il titolo di questo lavoro di ricerca che stiamo eh costruendo eh con facendo perno diciamo al Politecnico di Milano. Con me ci sono Alessandro Coppola che vedete qua che eh alla mia sinistra che è professore di urbanistica al Politecnico di Milano nel mio stesso dipartimento di architettura e studi urbani e che è uno dei coordinatori insieme a Federico Zanfi e Arturo Lanzani di questa attività di questo lavoro. Abbiamo tre ospiti esterni che ringrazio da subito moltissimo una di queste è in presenza ed è Elena Lattuada che è segretaria della CGL Lombardia e in remoto abbiamo Pierattilio Superti che è eh vice segretario della regione Lombardia e direttore dell'area programmazione della regione e Rita Miglietta che è assessora alle politiche urbanistiche del comune di Lecce che vediamo e che salutiamo. Ciao. Allora eh che cosa vorrei dirvi molto sinteticamente visto che il mio ruolo è innanzitutto quello di diciamo di dare la parola alle altre persone. Come dicevo prima si tratta di un lavoro che è stato incubato nell'ambito di questo progetto che è un progetto di ricerca dell'intero nostro dipartimento sul tema delle fragilità territoriali. Dentro a questo progetto è stato diciamo sviluppato un un lavoro abbastanza complesso e ampio che è partito con un seminario che si è svolto a febbraio il diciotto e diciannove febbraio pochi giorni prima del lockdown siamo riusciti a farlo in presenza ehm nel quale nostri ricercatori ricercatori di altre università italiane e con la collaborazione del forum disuguaglianza e diversità abbiamo provato a mettere a tema il rapporto fra la questione delle fragilità territoriali e le disuguaglianze e i divari territoriali nel nostro paese. Cioè abbiamo mh preso le mosse dall'ipotesi che una degli aspetti fondamentali della fragilità italiana sia connesso ad una articolazione territoriale molto complessa di disuguaglianze di diversità fra territori, fra gruppi sociali, fra aree del paese e così via. Dentro questa ipotesi a valle eh diciamo del del convegno e nei mesi del lockdown abbiamo sviluppato un lavoro con una partecipazione di una cinquantina diciamo di ricercatori e in collaborazione ancora una volta anche con altri soggetti istituzionali a partire dal forum disuguaglianza e diversità abbiamo provato identificare eh un insieme di azioni, progetti e politiche che puntassero a eh diciamo dare dei suggerimenti ai policymaker ai diversi livelli per costruire politiche territoriali capaci di ridurre i divari e le diversità. Sulla base di quali ipotesi? Fondamentalmente di tre ipotesi. La prima eh il tema delle disuguaglianze in Italia è un tema molto forte e la dimensione territoriale di questo tema è fondamentale. Queste disuguaglianze riguardano naturalmente le grandi parti del nostro paese c'è ancora una di una disuguaglianza molto forte fra le regioni del nord e le regioni del centro e del sud ma all'interno di queste macro aree ci sono ulteriori diversificazioni e questi divari territoriali stanno poi poi dentro singoli territori dentro le singole città anche nella nostra città per esempio anche a Milano e quindi abbiamo cercato di mettere in campo una serie di proposte che fosse in grado di appunto di aggredire il tema delle disuguaglianze territoriali assumendo prendendo sul serio questa questione della pluralizzazione della pluralità dei territori italiani. Per fare questo secondo ipotesi abbiamo assunto l'idea che fosse necessario eh costruire delle nuove geografie delle disuguaglianze. Noi abbiamo in testa delle geografie abbastanza tradizionali per esempio quella del nord e del sud oppure all'interno della città quella delle periferie tradizionali e via e abbiamo compreso che invece per essere precisi per essere efficaci nelle politiche pubbliche abbiamo bisogno di eh comprendere meglio queste geografie ricostruirle più attentamente. Terza ipotesi abbiamo assunto il fatto che la la il contrasto nei confronti delle disuguaglianze territoriali implica la capacità di mettere in discussione modelli di sviluppo tradizionali e in particolare assumere una questione che potremmo dire largamente una questione ecologica come questione fondamentale anche per per aggredire le disuguaglianze sociali nel nostro paese. Naturalmente eh abbiamo lavorato in piena era covid e il covid dal nostro punto di vista ha rappresentato un una sorta di cartina di tornasole e anche un acceleratore di alcuni di questi elementi. Lo abbiamo visto nei nostri territori nelle nostre città. A Milano ad esempio sicuramente gli effetti di disuguaglianza generati dalla pandemia sono stati fortemente concentrati geograficamente in alcune parti della città, in alcune sezioni urbane, in alcune zone dell'area milanese e così via. Questo ci insegna che eh il tema che noi oggi abbiamo in campo no della pandemia e di come rispondere alla gravissima crisi che la pandemia ha portato non può che essere affrontato a partire appunto da una capacità di essere precisi nell'identificare territori, luoghi e azioni. Ultima cosa che dico è che naturalmente ultime due cose che dico è che naturalmente questo implica nelle nostre proposte che sono una ventina, venticinque, venticinque proposte, anche un'attenzione agli attori che sono in grado di mobilitare queste proposte. Queste proposte sono diciamo multilivello, alcune di queste hanno certamente bisogno di un impulso nazionale, però tutte queste proposte devono essere radicate nei territori, devono essere quindi in grado di mobilitare istituzioni locali, forze sociali, rappresentanze dei cittadini, associazioni eccetera eccetera. Ci sembra cioè che si tratti di proposte che non solo sono in grado di identificare con precisione alcuni nodi del modello di sviluppo insostenibile tradizionale, non solo di costruire condizioni di maggiore diciamo coesione sociale, ma che sono anche in grado di mobilitare e attivare le forze migliori della società. Ultimo punto per far questo ci sembra fondamentale lavorare anche sulla dimensione della pubblica amministrazione, cioè di come funzionano lo Stato, le regioni comuni, perché si tratta di politiche spesso abbastanza complesse, multilivello e che richiedono diciamo da un lato un'intelligenza della società, ma dall'altro anche un'intelligenza delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni che su cui noi proponiamo di investire. Dirà poi meglio Alessandro Coppola anche facendo qualche esempio di che proposte si tratta, faccio solo una battuta ma su questo sarei interessato anche a sentire i nostri ospiti, mi sembra che le nostre proposte in questo momento stiano in una fase nella quale questa prospettiva non sia al centro dell'agenda pubblica. È stato appena pubblicato il testo del governo, la prima impostazione diciamo della programmazione del recovery fund che non mi sembra abbia questa chiave come chiave prevalente. Cosa faremo nelle prossime settimane queste proposte usciranno anche sui mezzi di comunicazione di massa per esempio sull'espresso verranno presentate la prossima settimana e poi via via lanciate un po' alla volta diciamo mentre vengono anche rifinite attraverso un contatto, una relazione con attori sociali e poi verranno complessivamente messe a disposizione della comunità, delle istituzioni, degli attori sociali alla fine dell'anno sostanzialmente, entro la fine dell'anno prossimo. Questo è anche un modo, è l'ultimissima cosa che dico per cercare di esercitare un ruolo pubblico e civile dell'università, vedremo se in che modo ne saremo capaci, però siamo abbastanza convinti che sia un tentativo diciamo di costruire conoscenza spendibile, conoscenza utilizzabile dell'università per le politiche pubbliche. Ecco questo era quello che volevo dire introduttivamente, come lavoriamo ora? Io lascerei la parola ad Alessandro Coppola che presenterà un po' meglio di me il senso di questa iniziativa, di questa operazione, poi chiederei all'assessore Amiglietta di dire la sua, al dottor Superti di dire la sua, alla dottoressa Lattuade di dire la sua e poi magari ci sarà un momento per discutere e io magari dirò due battute finali. Questo è il programma, abbiamo 45 minuti circa e quindi saremo abbastanza rapidi credo nei nostri interventi. Alessandro a te. Sì, grazie Gabriele, grazie ovviamente per questa occasione anche a nome appunto del professor Lanzani e del professor Zanfi, sempre del nostro dipartimento del Politero che quello ci stiano seguendo a distanza. Gabriele ha già detto diverse cose diciamo che mi permettono di essere anche un po' più rapido. Io volevo partire anche diciamo da quest'ultima questione che poneva il professor Pasqui riguardo come dire il ruolo della terza missione, il ruolo dell'università. Una delle cose confortanti che stiamo osservando negli ultimi anni è che si stanno strutturando nel nostro paese una serie di reti e di organizzazioni che molto spesso fanno lo sforzo di mettere insieme persone che come lavoro lavorano nelle istituzioni della conoscenza, attivisti, mondo associativo, abbiamo citato il forum diseguaglianze università senza dubbio, potremmo citare l'ASVIS, potremmo citare tutta una serie di collettivi che vanno strutturandosi a livello nazionale, penso per esempio l'associazione che si chiama Riabitare l'Italia che parte appunto da un progetto di libro che è stato pubblicato tempo fa sul tema appunto delle aree interne, il collettivo dell'economia fondamentale. Questo è un aspetto molto secondo me importante e confortante da sottolineare il fatto che c'è uno spazio intermedio fra l'azione pubblica, l'azione collettiva e la produzione di conoscenze che vediamo essere sempre più occupato con anche una certa dose di innovazione, di creatività e anche di generosità. Noi diciamo con questo esperimento, con questo percorso, ci iscriviamo un po' in questo sforzo e fin dall'inizio peraltro abbiamo scelto di collaborare col forum diseguaglianze e diversità anche condividendone appunto questa postura iniziale. Come diceva il professor Paschi, siamo partiti da una conferenza che è stata celebrata proprio alla vigilia del lockdown, proprio qualche giorno prima, che aveva al centro proprio il tema dei divari territoriali e diciamo della loro rilevanza nello strutturare divari sociali più complessi, di natura proprio sistemica che caratterizzano la nostra società. È stato un momento di riflessione ma già di proposta, abbiamo avuto quattro sessioni che erano dedicate sostanzialmente ai temi della mobilità, dell'abitare, degli spazi aperti, che ovviamente per noi urbanisti sono molto molto importanti e alle politiche di quelle che noi definiamo il welfare materiale, ovvero le strutture fisiche e materiali che permettono l'erogazione dei servizi pubblici, non solo quelli universali. E poi, come si diceva, abbiamo lavorato alla condivisione di quelle che abbiamo definito un po' sinteticamente delle immagini di paese ed è il tema a cui si faceva riferimento poco fa. Viviamo in un paese le cui rappresentazioni territoriali sono un po' datate. alcune, come sappiamo, sono tristemente vitali. Il dualismo territoriale fra il mezzogiorno e il resto del paese sappiamo che è, ahimè, molto molto vitale e anzi è andato allargandosi. Ma allo stesso tempo sappiamo anche che l'articolazione territoriale del paese dagli anni 2000, attraverso la grande crisi del 2008 fino ad arrivare al Covid sta attraversando una fase di grandissima di grandissima ridefinizione che è stato oggetto anche di progetti di ricerca ci sono stati diversi progetti di ricerca nazionali non so, mi viene in mente un progetto di ricerca che si chiama Postmetropoli lo stesso lavoro che è stato fatto sulle aree interne a partire da riabitare l'Italia ma questa ridefinizione di una geografia possibile che abbia anche a che fare con l'azione collettiva e con le politiche pubbliche stenta con grandissima difficoltà a superare un muro di gomma di gomma che arrivi da una parte proprio agli attori politici magari su questo dirò qualcosa e dall'altra a quello di cui sono responsabili gli attori politici che sono in particolare le decisioni pubbliche e le decisioni e le politiche pubbliche arrivano come immagini in Europa e anche in Italia stiamo parlando, insomma, ogni elezione ci rendiamo conto di alcuni processi per esempio probabilmente in questo turno elettorale ci renderemo conto che è una cosa che noi definivamo in modo abbastanza omogeneo che era un'Italia centrale prospera e politicamente omogenea va scomponendosi siamo assolutamente consapevoli che nelle aree metropolitane i divari elettorali sono sempre più netti organizzati ad un principio di opposizione fra le aree centrali e le vaste aree periferiche sono messaggi che magari arrivano nei momenti elettorali ma che poi diciamo al di là di un certo discorso politico molto orientato semplicemente a come dire ad animare un conflitto anche spaziale però diciamo depositano poco dal punto di vista di progetti e idee e così via per esempio quindi un primo aspetto sul quale stiamo lavorando abbiamo lavorato e di nuovo facendo leva su ricerche degli ultimi anni ovviamente è uno sforzo appunto di anche molto di combinazione di progetti di ricerca e di esiti di ricerca che si sono depositati negli anni e costruire un po' questo nuovo scenario territoriale una prima parte delle proposte sulle quali abbiamo lavorato fino ad ora hanno proprio a che fare con queste sei immagini di paese che sono immagini parziali e non esaustive anche per le cose che dicevo sul dualismo territoriale di prima ma che comunque riguardano appunto alcune tipologie che per noi sono interessanti e che dovrebbero essere tematizzate dalla politica e dalle politiche pubbliche un primo fuoco è stato sulle aree sulle aree metropolitane e sui divari all'interno delle aree metropolitane quando parlo di aree metropolitane parlo davvero di aree metropolitane noi abbiamo avuto di recente delle politiche nazionali che avevano il nome metropolitano ma che poi andavano ad avere come oggetto il nucleo delle aree metropolitane che per delle dinamiche di divercazione sociale che possiamo osservare da tempo come dire non sono necessariamente decisive quindi una prima famiglia le aree metropolitane intese come territori metropolitani vasti che convenzionalmente possiamo associare alle aree metropolitane ma che sappiamo sono molto eccedenti i confini stessi delle aree metropolitane una terza Italia in crisi e che è forse il nuovo ingrediente dei divari noi eravamo abituati a appunto guardare al dualismo con l'idea che anche la terza Italia ovvero le aree che hanno conosciuto un grande sviluppo a partire dagli anni 80 e 90 progressivamente convergevano con il nord sappiamo bene che oggi abbiamo a che fare con un'Italia medio adriatica ad esempio che sta facendo esperienza di crisi territoriali molto molto profonde che hanno degli svolti ecologici degli svolti sociali le aree interne di cui si è già discusso e di cui noi discutiamo in termini diciamo un po' diversi da quelli della volgata un po' romantica diciamo sul borgo il ritorno al borgo ma è diciamo il ruolo delle aree interne per esempio nella capitale ecologico del paese vengono spesso rappresentate le aree interne come delle aree come dire che attualmente sono marginalizzate da ogni punto di vista ma dobbiamo ricordare che le aree interne oggi producono una serie di servizi ecologici decisivi per l'insieme del paese che semplicemente l'insieme del paese non riconosce fa finta di non riconoscere fa finta di non assumere nel loro ruolo la pianura padana inquinata questa è un'altra immagine che secondo noi va messa al centro cioè l'Italia ha la più vasta una delle più vaste regioni urbane d'Europa e soprattutto la più vasta regione urbana con tassi di inquinamento del suolo dell'aria e delle acque con dei livelli di esposizioni differenziati a questi fenomeni dal punto di vista dei territori e dei gruppi sociali abbiamo visto col covid varie discussioni e un'Italia costiera che ha molto a che fare con il cambiamento climatico questo rapidamente era per dirvi che un primo gruppo di proposte riguarda forme di azione pubblica organizzata e coordinata in queste famiglie di territori che banalmente quando poi prendiamo il documento del governo sul recovery fund non troviamo cioè è un paese senza coste è un paese in cui le aree metropolitane sono citate come se fossero un fatto poco rilevante è un paese per esempio che non ha dei territori manufatturieri in profonda crisi o se ce li ha vengono ricordati soltanto per lo specifico manufatturiero e non per il tema più ampio dello sviluppo e quindi un primo diciamo filone di proposte interviene su queste immagini di paese come diceva il professor Pasco ne abbiamo 25 su cui stiamo lavorando in estrema sintesi sono proposte che hanno diversi punti di uscita e anche diversi come dire interventi critici sul reale alcune proposte hanno molto a che fare per esempio con regolazioni attuali di settori di politiche pubbliche o di mercati che hanno degli effetti sul territorio molto molto rilevanti vi farò degli esempi per esempio tutto il campo diciamo degli incentivi alle ristrutturazioni o all'adeguamento ambientale del patrimonio edilizio noi su Cora abbiamo una serie di proposte che hanno l'obiettivo di orientarle sia di differenziarle dal punto di vista territoriale sia di differenziarle dal punto di vista sociale cioè di fare in modo che questi incentivi non siano generici ma che abbiano degli impatti sociali positivi su alcuni gruppi sociali anche sulla mobilità abbiamo per esempio delle proposte di questo genere che prendono una massa di incentivi e cercano di orientarle in modo più finalizzato altre proposte che invece hanno a che fare anche con di nuovo con masse di spesa pubblica che impattano il territorio un esempio molto molto chiaro evidente molto semplice è quello della spesa infrastrutturale che è una spesa di dimensioni gigantesche nel nostro paese e che ha una sua inerzia abbiamo ancora un dibattito che come sapete come sappiamo tutti è dominato da grandi infrastrutture si discute ancora moltissimo per esempio di infrastrutture stradali abbiamo una serie di proposte che invece hanno tutte a che fare diciamo con una mobilità per esempio a medio raggio una mobilità metropolitana una mobilità che ha a che fare con i flussi pendolari che ha a che fare con la ciclabilità che ha a che fare con anche assi di ciclabilità di livello meta metaregionale e tutte queste proposte poi hanno un elemento che ricordava il professor Paschi che è quello della funzione dell'attore pubblico allora una prospettiva evidente che sta emergendo anche con forza di nuovo dei dibattiti sul recovery fund è che viviamo in un strano paradosso per il quale abbiamo un paese in cui come sapete la quota di spesa pubblica sull'economia è molto molto rilevante ma la rilevanza delle politiche pubbliche anche la visibilità delle politiche pubbliche associata a questa quota molto rilevante dell'economia è molto scarsa perché se guardiamo molte politiche lo Stato si è configurato sostanzialmente come un amministratore di incentivi e dal punto di vista gli incentivi e le ristrutturazioni sono un ottimo esempio cioè uno Stato che si limita a erogare bonus a trasferire quantità di risorse senza programmi strategici senza idee strategiche che per esempio come diceva Gabriele facciano anche leva su degli attori concreti cioè su dei gruppi sociali e su degli attori sociali sul territorio da questo punto di vista in ogni proposta lo Stato torna protagonista cioè torna protagonista come un attore che deve avere competenze che deve avere al proprio interno un livello di conoscenze molto molto elevato quindi il tema del reclutamento nel settore pubblico è molto molto importante per noi e non solo del reclutamento dal punto di vista quantitativo ma anche dal punto di vista quantitativo cioè di far entrare nella pubblica amministrazione tutta una generazione molto molto ampia che ha oggettivamente delle competenze che sono cresciute rispetto alle generazioni precedenti e che oggi non sono minimamente valorizzate nei processi di elaborazione delle politiche pubbliche chiudo rapidissimamente dicendo che appunto come veniva anticipato questo è un lavoro che è nato prima del covid ha attraversato la crisi del covid e quindi si è trovato di fronte questo Moloch che è anche un'opportunità di questa massa di spesa straordinaria che per quanto ci riguarda è una grande opportunità per produrre alcune di queste innovazioni che conterremo in queste 25 proposte colpisce per esempio nel documento si diceva senza dubbio l'assenza nel documento del governo di un immaginario territoriale assenza veramente che colpisce in modo molto molto forte e allarmante e inoltre colpisce anche il modo con il quale si è arrivati a quel documento parlavamo appunto di una zona grigia fra società e istituzioni della conoscenza e percorsi della conoscenza che si organizzano per qualificare l'azione pubblica ecco tutto questo in quel processo è stato completamente assente come avete forse letto dalla stampa si è trattato di un processo tutto interno molto rapido all'amministrazione dello Stato che ovviamente deve avere un ruolo generale un ruolo che ovviamente deve avere un ruolo molto importante ma che non ha minimamente incrociato la conoscenza pubblica gli attori sociali e così via questo è anche un filone molto importante delle nostre proposte perché questa nostra riflessione sul ruolo pubblico sul ruolo dello Stato è anche una riflessione molto sul modo di lavorare dello Stato nel senso che è la centralità senza dubbio dell'azione pubblica ma di un'azione pubblica ovviamente che in una società complessa è in grado di farsi carico di anche come dire della possibilità di contribuire di tanti di tanti ambienti di tanti insomma contesti di tanti contesti diversi io mi fermerei qua grazie mille grazie io darei adesso la parola all'assessora Rita Miglietta che è assessora all'urbanistica al comune di Lecce molte delle nostre proposte hanno una dimensione transcalare diciamo l'ambizione è quella comunque di avere implicitamente un'idea per il paese e anche per le regioni del mezzogiorno quindi l'assessora conosce un po' il nostro lavoro abbiamo avuto modo di collaborare e quindi le lascio volentieri la parola per un commento grazie grazie buon pomeriggio a tutti un caro saluto e grazie per questo invito posso dire che come diciamo amministratrice vivo con molta preoccupazione questa assenza di immaginario territoriale verso questa nuova programmazione in cui faceva riferimento il professore Coppola noi ci stiamo misurando con un progetto un progetto di territorio che punta a lavorare su una grande ricomposizione di vari territoriali che abbiamo in particolare a Lecce che è una città media del mezzogiorno e che con l'amministrazione del sindaco Salvemini si sta misurando dentro un progetto politico di città nuovo andando a compensare delle carenze strutturali di politiche pubbliche abbiamo delle difficoltà però perché quando anche costruiamo una visione politica del territorio con un programma chiaro che punta alla costa come una delle parti della città più strategica per entrare in un futuro più sostenibile per ridefinire anche un nuovo immaginario della città Lecce è una città che è nota per il suo centro storico è nota ormai in tutto il mondo per il suo centro storico ci sono molti leccesi che non conoscono la costa ci sono comunità di persone che vivono la costa in condizioni molto difficili senza urbanizzazioni primarie dentro paesaggi che hanno delle fragilità idrogeomorfologiche fortissime e che si stanno semplicemente acuendo con il cambiamento climatico con l'inalzamento del livello del mare un'erosione costiera molto forte fattori che vanno a incidere su un paesaggio di estrema bellezza ma martoriato da decenni di abusivismo edilizio quindi un pezzo di territorio come appunto la costa una costa di 22 chilometri di una penisola della penisola perché sapete tutti che il Salento è la penisola d'Italia che va ad investire in questo territorio per farlo essere un'occasione di sviluppo lo fa costruendo un immaginario accendendo un'attenzione degli attori non solo sociali abitanti associazioni università locali e non imprenditori anche lo fa accendendo anche un'attenzione istituzionale penso alla regione soprattutto ma anche alle istituzioni preposte alla tutela del paesaggio penso alla sovrintendenza e riesce a lavorare dentro la costruzione di un percorso progettuale condiviso quello che noi stiamo provando a fare è ribaltare un approccio culturale sulla costa che poi forse può valere in Italia non solo per le coste ma per altri temi territoriali ma in particolare le coste sono sempre state viste dallo Stato con una visione molto parziale molto incompleta e limitata che ha investito soprattutto l'attenzione su interessi privati siano essi di poche famiglie che realizzavano lungo le coste oppure di imprese balneari senza una visione di insieme tant'è che la stessa gestione del demanio oggi è priva di una legge nazionale coerente con la normativa europea al punto che se si vuole investire sulla costa come una nuova occasione anche di creazione di nuovi posti di lavoro o nascita di imprese sociali culturali che lavorano sulla costa fanno fatica perché sappiamo che le concezioni dei maniali non sono aperte e siccome noi stiamo costruendo un progetto di territorio che punta a non solo definire un sistema di servizio e un disegno dello spazio pubblico fondato sui valori ambientali del nostro capitale naturale lecce a sei aree sic interposte tra questo tessuto edilizio appunto molto precario che ha perso valore immobiliare naturalmente ed è molto insicuro ma ha una quantità di beni culturali storici archeologici e ambientali che possono essere dentro un modello costiero che non guarda soltanto agli usi balneari ma guarda anche agli usi naturalistici agli usi culturali agli usi agricoli dove c'è lo spazio per un'agricoltura sostenibile guarda a questi fatti come ad una nuova occasione di sviluppo e lo fa purtroppo con difficoltà lo devo dire perché non posso nasconderlo perché è molto difficile legare la pianificazione urbanistica con la gestione del demanio perché lì dove noi proponiamo il progetto di comunità che prova a condividere i valori ambientali con le comunità e quindi a condividere la conoscenza sulla pericolosità di questi immobili che magari hanno bisogno di essere trasferiti o hanno bisogno di convertirsi in spazi più leggeri più minuti ma più in relazione con il mare e quindi diventare occasioni per appunto imprese imprese che che diano un'offerta di fruizione del territorio e di ehm perta turistica diversa eh per farlo hanno però bisogno di accedere al mare e questo accesso al mare sia in senso fisico come bene pubblico come bene comune quale è secondo il nostro secondo le nostre norme è impossibile perché di fatto esiste una visione eh molto frammentata è molto ehm molto poco pubblica eh però detto questo credo che non si possa prescindere da un cioè ritengo che la costa sia eh per questo paese un'occasione straordinaria di rilancio di ricostruzione di eh ricostruzione di territori più equi più sicuri e più ecologici eh ma naturalmente per lavorare su un eh un cambio di paradigma eh non c'è bisogno soltanto di un investimento forte dentro appunto la costruzione di un immaginario territoriale del paese c'è bisogno appunto come era stato accennato anche di cambiare un po' la concezione dell'amministrazione pubblica ehm aiutandola con risorse umane ed economiche nuove e eh cambiando anche il dialogo che esiste tra istituzioni perché spesso le istituzioni che concorrono a ehm portare avanti un progetto di territorio piuttosto che cooperare sono in conflitto tra di loro eh un conflitto dialettico ma non sempre l'obiettivo è quello della cooperazione allora noi lavoriamo su un progetto di paesaggio costiero che ha eh offerto agli abitanti a eh le imprese balneari un approccio cooperativo cioè la costruzione di un fatto eh per eh condividere i problemi e le conoscenze abbiamo offerto di condividere loro di condividere un progetto di monitoraggio dell'erosione eh siamo vogliamo proporre alla regione Puglia un protocollo di eh eh gestione delle spiagge che non è eh appunto pubblico eh in contrapposizione al privato o pubblico privato in modo separato ma è un modello di collaborazione eh è molto complesso io credo che ehm ci sia un divario tra la realtà e come dire la programmazione politica ma a volte anche quando c'è la volontà politica come in questo caso ehm sembra esserci una distanza tra ehm i territori e gli organi istituzionali più più lontani grazie grazie mille è molto interessante una delle nostre venticinque proposte riguarda proprio questo tema e ci siamo proprio ispirati un po' a voi no? Cioè la logica di una delle nostre proposte è quella di attivare un percorso di questo tipo per l'insieme del sistema costiero italiano eh dobbiamo andare un po' veloci e quindi lascio subito la parola a Pierattilio Superti che come ho già detto prima è vice segretario della regione Lombardia è il dirigente eh capo della programmazione ma posso dirlo è stato anche a lungo segretario di eh Anci Lombardia quindi ha un'esperienza importante anche dalla prospettiva dei comuni in questo momento sta gestendo un tema fondamentale cioè come anche la programmazione europea oltre che la programmazione recovery fund può servire diciamo in una fase così complessa a rilanciare politiche pubbliche di tipo territoriale gli lascio volentieri la parola grazie Gabriele grazie per l'invito e pomeriggio a tutti ovviamente mi scuso se magari mi avete visto prima al telefono ma si sta lavorando su un'ennesima ordinanza che riguarda le attività sportive io avrei alcune osservazioni perché molte delle cose che sono state dette non solo sono interessanti ma sfidano molto la pubblica amministrazione innanzitutto a partire dalle sue modalità di lavoro ho sentito l'assessore del comune di Lecce e vorrei riprendere se ho ben capito la parte finale del suo intervento e partire da lì ci sono due aspetti la pubblica amministrazione è abituata a lavorare per silos verticali in cui le competenze sono definite non c'è trasversalità il dirigente dice io arrivo la mia competenza arriva fin lì chi firma la delibera chi fa l'impegno di spesa perché devo farlo io eccetera eccetera ovviamente come dire do per scontato tutto quanto ha scritto il professor Cassese sul tema della dirigenza pubblica e di come la dirigenza pubblica in questi anni sia stata sottoposta a pressioni e a una legislazione che l'ha via via portata al dire che forse è meglio non fare nulla per evitare problemi insomma però detto questo il secondo aspetto è che invece i temi che noi le sfide che il tempo di oggi ci pone sono tutte tipicamente trasversali e hanno bisogno che le pubbliche amministrazioni diano una identità forte alle proprie iniziative politiche e alle proprie iniziative amministrative il terzo sono gli strumenti che la pubblica amministrazione ha a disposizione perché non abbiamo strumenti semplici non abbiamo strumenti efficaci e molto spesso gli strumenti che sono stati pensati vengono complicati dal fatto che bisogna rispettare la forma e se poi si perde il raggiungimento dell'obiettivo è pazienza tornare invece ad avere il tema della trasversalità del lavoro in team di una programmazione che individui l'obiettivo e che questo obiettivo sia raggiunto e insieme gli strumenti di semplificazione sia per quanto riguarda il rapporto del cittadino con la pubblica amministrazione sia per quanto riguarda il lavoro che la pubblica amministrazione e la sua responsabilità ci sono sono temi che se non vengono sciolti renderanno impossibile qualsiasi cosa dalle cose più semplici alle cose più complesse vi faccio un esempio molto banale per realizzare un nuovo ospedale partendo da zero una volta che abbiamo individuato i 400 milioni necessari abbiamo fa c'è la volontà di realizzarlo si passano passano dal momento in cui si inizia al momento in cui avremo le chiavi in mano di questo nuovo ospedale tra i sei e i sette anni se non ci saranno ricorsi al TAR consiglio di Stato perché altrimenti la cosa si allunga di più capite che questa è una cosa che non riesce più a stare in piedi e soprattutto non riesce più a rispondere ai tempi che noi oggi siamo chiamati a vivere il secondo aspetto è che l'esperienza del covid in Lombardia ci ha posto un tema fondamentale la diversità dei territori noi abbiamo avuto molti ragazzi che non hanno potuto seguire le lezioni online perché non c'era un collegamento internet sufficiente di banda sufficiente per garantire a loro di poter seguire le lezioni non solo nelle aree cosiddette interne delle valli montane ma anche là dove c'è la pianura più profonda questo è un tema di disuguaglianza oggi materiale che come dire fa la differenza di interi territori se il tema che il covid ci pone è il tema che basta un battito d'ali nel piccolo paese di Castiglione d'Adda perché la metropoli milanese sia poi travolta noi non possiamo pensare a territori che abbiano una diversità di rapidità di collegamenti di rapidità di flusso di informazioni perché tutti i nostri territori sono attraversati in ugual modo dai flussi economici dai flussi finanziari che li hanno cambiati radicalmente hanno cambiato la città di Milano ma hanno cambiato la zona pedemontana così come la zona di pianura e abbiamo come dire adesso di fronte cose particolarmente come dire anche sfidanti come pensiamo di utilizzare i fondi della programmazione 21-27 in un quadro di spero di come dire di parità di risorse rispetto a quella 14-20 per rispondere in qualche modo a questo noi abbiamo scelto di agire sulle aree di investire più di quanto la comunità europea chieda per le aree urbane e per le aree interne sulle aree interne significa innanzitutto fare lavoro per avere una rete di servizi di base che rendano possibile e attrattivo il fatto che le giovani coppie lì si fermino a lavorare uno può fare lo smart working ma se poi non ci sono servizi di base come asili come connettività come possibilità di spostarsi come strumenti come dire luoghi culturali di produzione o banalmente luoghi per vivere la vita quotidiana insomma anche di società di relazione questo è un tema il secondo è sulle aree interne di problema che noi abbiamo è quello della governance e noi chiediamo stiamo lavorando per costruire dei centri di competenza che permettano a queste realtà molto spesso caratterizzate da piccoli comuni ricordo che in Lombardia ci sono oltre 1500 quasi 1540 comuni di cui oltre 1000 sono sotto i 5000 abitanti e questo significa come dire costruire un centro di competenza che gli permettano di spendere le risorse che sono messe a disposizione il terzo è la questione delle aree urbane e sulle aree urbane noi stiamo cercando di costruire un progetto per come dire perché le occasioni di rigenerazione urbana non siano solo come dire mattoni strade e qualche intervento architettonico particolarmente riuscito ma sia la possibilità di ricostruire un tessuto sociale una rete di comunità perché una delle cose che solitamente non si dice ma è stata molto pesante è che il covid ha provocato una crisi profonda anche nel capitale sociale nel tessuto associativo nelle relazioni che ci sono state sui territori noi non possiamo pensare a delle aree urbane che rispondono alle crisi che il covid ne ha caratterizzate se non pensando e non rilanciando anche questi ruoli e questa idea di capitale sociale e di reti di comunità non sarà una cosa semplice non sarà una cosa facile ma è quello su cui vogliamo attestarci con atti coerenti l'uno con l'altro dalla rigenerazione urbana a interventi di welfare di comunità e soprattutto come dire al sostegno al ruolo che il terzo settore le reti associative possono costruire se noi non abbiamo reti associative sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista culturale quel territorio sarà più povero sarà meno attrattivo l'inclusione sociale come elemento di attrattività e come elemento di competitività dei territori questi sono come dire i grandi nodi e i grandi aspetti su cui noi stiamo cercando di lavorare di costruire un percorso che abbia quella caratteristica di trasversalità che prima come dire cercavo di dire grazie grazie mille mi permetto anche di dire che con la programmazione stiamo avviando anche come dipartimento una collaborazione proprio sul tema delle aree urbane e speriamo di poter contribuire diciamo a questo percorso lascio la parola ora a Elena Lattuada segretaria regionale della CGL Lombardia per un suo commento grazie ma molte buongiorno a tutti e a tutte ovviamente grazie per l'invito assolutamente temi assolutamente rilevanti e interessanti vorrei solo provare a mettere tre spunti di riflessione la prima il Covid ha cambiato molte cose certamente nella percezione nella vita delle persone ha paradossalmente fatto riscoprire molto un'idea di vicinato e di comunità cioè nell'isolamento con cui siamo tutti stati l'idea di reti sociali penso come dire ai quartieri nelle città penso ai tanti racconti di sindaci di piccolissimi paesi che hanno tenuto nei confronti della popolazione un rapporto costante anche con strumenti whatsapp messaggi eccetera cioè in questa condizione in cui ognuno era isolato nella propria casa l'idea del luogo dove stai e delle relazioni sociali dell'aiuto tra le persone è stato in realtà una grande riscoperta perché dico questo perché questo ha non solo cambiato tante percezioni ne potremmo citare una fondamentale il tema della salute pubblica del bene pubblico salute prima e dopo il covid è profondamente radicalmente cambiato davamo assolutamente per scontato tante cose il covid ha cambiato anche questa ma in questa idea di vicinato anche nei processi economici e nei riflessi che questo ha determinato e comportato come dire nella vita lavorativa delle persone anche questo è profondamente cambiato pensiamo a tutto il tema del commercio e di come oggi la distribuzione alimentare in primi se non solo è cambiata e di come siamo passati se penso diciamo a regione lombardia e non solo a tutto il nord italia sui grandi investimenti che si sono fatti sulle grandi superfici del commercio sulle grandi aggregazioni le grandi aree commerciali e come queste siano oggi quelle più in crisi rispetto ad esempio ai negozi di vicinato ecco questo cambia la geografia di un territorio cambia la dimensione la percezione la condizione sociale e dal mio punto di vista ovviamente cambia anche la condizione del lavoro perché è chiaro ed evidente che una scelta piuttosto che un'altra ha dei riflessi e oggi drammaticamente a proposito di disuguaglianze e di diversità potremmo dire che anche rispetto al lavoro non tutti hanno vissuto l'era Covid i mesi del Covid e i riflessi che questo ha comportato sul piano economico esattamente nello stesso modo ci sono settori che non hanno perso nulla anzi hanno guadagnato e ci sono settori che invece non solo non hanno neanche ripreso ma non è chiaro neanche se e quando riprenderanno quindi primo tema è come si governa un evento che ovviamente era esterno inimmaginabile come lo si governa diciamo che credo tutti noi salutiamo con grande attenzione il fatto che siano cambiate le politiche economiche ci siano oggi risorse messe a disposizione ovviamente la sfida vera è se quelle risorse serviranno a innescare non solo processi diciamo di innovazione di riduzione delle diseguaglianze ma se quelle risorse verranno messe nella condizione di agire per colmare problemi che già avevamo e che non eravamo in grado di risolvere anche qui solo un esempio perché come dire ricorso tanto nella discussione di oggi non è solo il tema del come funziona la pubblica amministrazione quali sono le responsabilità io come dirò condivido alcune cose che Pippo ha detto per esempio su come lavora e agisce la pubblica amministrazione cioè questa idea che non c'è un insieme che risponde ma che ognuno risponde sulla base di una legislazione sulla base di responsabilità e così via però potremmo anche dirci che la pubblica amministrazione nel suo insieme negli ultimi credo vent'anni ha visto ridurre significativamente il peso e la rilevanza in ragione di un'idea politica prevalente che vorrei dire ha attraversato destra e sinistra da questo punto di vista e cioè che in fondo si poteva ridurre la regia pubblica a favore del a favore del mercato e a favore delle scelte che settori imprese grandi imprese piccole imprese e quant'altro o associazioni potevano fare e questo ha avuto come effetti uno degli effetti che ha avuto è che per esempio si è continuato a ridurre la macchina pubblica pensando che in fondo fosse irrilevante questo riguarda come dire ha riguardato dai ministeri ai comuni ha riguardato tutto il settore dell'educazione dell'università e della ricerca cioè l'idea che in fondo c'era qualcun altro che ci poteva pensare e se ragioniamo in fondo la logica con cui si sono anche distribuite le risorse perché non è vero che non sono state distribuite risorse in questi lunghi anni di crisi ma le risorse si distribuivano attraverso bonus incentivi e così via e non c'era una funzione regolatrice allora a me interessa oggi per esempio sul versante diciamo del ruolo di rappresentanza affermare che se c'è un potenziamento della pubblica amministrazione questo deve partire prima di tutto dal costruire grandi competenze che sono anche competenze di controllo su quello che accade cioè io non credo che ci sia solo un problema di decisore pubblico istituzionale cioè non è solo la politica e l'istituzione e anche la competenza dentro la pubblica amministrazione e quindi un mix che si rivaluta e che riprogramma la possibilità effettivamente di agire la leva del controllo se abbiamo intere strutture in cui non ci sono figure in grado di fare questo è evidente che non lo possono fare ed è evidente che vale molto di più la logica della circolare e dell'applicazione della circolare rispetto all'agire una competenza quindi da questo punto di vista io credo che questo sia un tema il secondo è ovviamente come qual è l'ottica con cui si decide di usare le risorse del recovery found per un verso ma anche come ricordava pippo le risorse la nuova programmazione economica 21-27 se appunto si sceglie che ci sono o la dispersione di tantissimi progetti cioè ad ognuno riconosciamo qualcosa oppure se si decide che ci sono delle priorità in questo paese adesso l'esempio della digitalizzazione della difficoltà per esempio per i bambini e le bambine ragazzi ragazzi studenti nei mesi di reclusione di reclusione di per i bambini certamente anche un po' di reclusione possiamo dirlo non a caso erano sufficientemente sorridenti nel momento in cui sono tornati a scuola e per fortuna sono tornati a scuola ma se appunto la logica con cui si misura un progetto di digitalizzazione è quello di rendere fruibile in ogni angolo del paese la possibilità appunto banalmente di fronte a un nuovo lockdown di essere connessi perché poi sappiamo che la connessione è anche come dire potenzialità e possibilità di essere informati di avere accesso di imparare di formarsi anche da adulti perché c'è anche questo tema sulla digitalizzazione e se questo è messo a disposizione come dire di un insieme di variabili cosa che in qualche misura mi pare si proponga nel momento in cui si legge il territorio non settorialmente ma si legge il territorio sulla base di quelle che sono dei progetti con lo scopo che è ridurre le diseguaglianze dare le stesse opportunità alle persone perché io credo che al fondo della riduzione delle diseguaglianze c'è la possibilità di dare opportunità uguali a tutti quando sappiamo perfettamente che questa cosa non è data e quindi se le risorse vengono usate con questo fine oppure se le risorse si decide che appunto ci sono grandi adesso faccio degli esempi grandi opere infrastrutturali a prescindere da come questo impatta sulle condizioni del territorio che si decide che è più importante dare un volano all'economia privata rispetto all'economia pubblica altro nodo assolutamente irrisolto questo sì che ha attraversato tanto il nostro dibattito politico negli ultimi trent'anni e ultimo se alcuni bisogni sociali sono priorità per l'insieme di questo paese alcuni bisogni sociali facevo l'esempio della sanità potremmo fare l'esempio dell'istruzione perché in un mondo che cambia come tutti ci raccontano forse è arrivato anche il momento di dirci che dobbiamo pensare per esempio ad innalzare l'obbligo scolastico innalzare l'obbligo scolastico che non vuol dire rendere obbligatoria l'università per tutti ma che vuol dire che tutti almeno arrivano a 18 anni avendo come dire conseguendo da questo punto di vista un percorso scolastico anche diversificato ma che permetta alle persone di essere nella condizione di potersi giocare come dire un'opportunità di lavoro questa è una grande spesa sociale io la chiamo una grande infrastruttura infrastrutturazione sociale di cui forse abbiamo bisogno anche con l'idea che appunto il colmare le diseguaglianze costruire le opportunità parte anche dall'avere una capacità di cogliere come dire di avere conoscenza e di cogliere quello di cui abbiamo grandemente bisogno non ho parlato dei settori economici non ho per ovvie ragioni di come l'industria manifatturiera se parliamo della regione lombardia impatta da questo punto di vista sulla visione dei territori di quante diseguaglianze anche di sviluppo non programmato e lasciato al libero mercato sono accadute per esempio nella pianura padana perché un pezzo dell'inquinamento è certamente dato dal grande sviluppo della logistica che c'è stato nella pianura padana di cui nessuno se ne è reso conto salvo poi misurare gli impatti che questa cosa determina voglio dire sono molte le cose mi convince questa idea forse abbiamo bisogno per far vivere questo tipo di idea anche di porci seriamente il problema di un assetto istituzionale che forse ha bisogno di qualche significativa manutenzione grazie 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 mille io credo che noi non abbiamo più tempo quindi volevo solo fare una battuta finale ringraziando i nostri ospiti che io esco incoraggiato diciamo da questa chiacchierata perché da un lato tutti ci hanno detto che progetti integrati sono progetti di territorio e progetti di territorio necessariamente devono essere integrati sia nell'integrazione fra i diversi pezzi dell'amministrazione ma poi nell'integrazione con le forze economiche sociali con la cittadinanza quindi mi sembra che le cose che ci siamo detti oggi ci spingano ad andare avanti come si dice stay tuned cerchiamo di socializzare le nostre proposte e magari anche di metterle a disposizione meglio delle amministrazioni e degli attori sociali che vogliono dialogare con noi vi ringrazio tantissimo ringrazio fondazione Feltrinelli per l'ospitalità e adesso proseguiamo con altre attività grazie mille grazie grazie